Onorevole Pagano del PD, sembra che lo Stato italiano si genufletta dinanzi ad Arcelor Mittal, scudo penale, esuberi 2000-2005, persone in cassa integrazione come minimo e poi ancora a Fodue slittano i lavori di adeguamento, insomma che dire? Ma io non percepisco alcuna genuflessione, anzi per la prima volta sto vedendo lo Stato italiano mantenere la schiena dritta di fronte a un atteggiamento di Arcelor Mittal che... Dandogli lo scudo penale? Al momento non mi pare che ci sia questo, però... C'è, non possiamo negarlo? No, non c'è, assolutamente non c'è, se lei ha notizie... E a Fodue i lavori che si dovevano completare l'11 dicembre? Non ho mai parlato di questo. C'è la magistratura che l'ha stabilito? Non ho mai parlato di questo. Si deve documentare? No, se vuole ci leggiamo i documenti. Io solitamente sono uno molto documentato. Si male sarà sfuggito evidentemente. Ma no, non vi assicuro che... Comunque Taranto continua a morire e a produrre, si produce uccidendo? Questa è una... È una realtà. Questa è una definizione, io mi attengo alla richiesta di valutazione di impatto ambientale e sanitario... Quindi a Taranto la situazione sanitaria è sotto controllo? Nel più breve tempo possibile. Quindi è sotto controllo per lei? Critica, no. Meno male che credi.